In questi primi mesi noi ci siamo trovati ad affrontare un'emergenza che poteva portarci all'inizio del semestre a una condanna per violazione dei diritti dell'uomo. Qualche settimana fa, lo so che le cattive notizie risaltano più di quelle buone, la Corte di Strasburgo, pronunciandosi, ha riconosciuto i progressi fatti dalle autorità italiane per riallinearsi alle indicazioni che la Corte aveva dato. Abbiamo risolto solo una piccola parte del problema, cioè quella del sovraffollamento in parte, tanto da rientrare in quei parametri, ma non abbiamo risolto una questione che poneva oggi Roberto Saviano, come facciamo a diventare il carcere un luogo dove si combattono le mafie e non dove si rafforzano le mafie.